Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Sono in tanti coloro che, ossessionati dall'idea della perfezione estetica, cercando di imitare i lineamenti di personaggi famosi o di personaggi di cartoon. Purtroppo si tratta di una vera e propria patologia, con rischi talmente pesanti da restarci secchi. Cosa si fa per assomigliare a tutti i costi a Ken? Sono in tanti a chiedersi perché un'ossessione abbia potuto portare al decesso di un ragazzo già di suo bellissimo. Parliamo di Celso Santebanes, che si è spento a soli 20 anni dopo 4 anni vissuti costantemente sotto i ferri. Tutti coloro che hanno seguito la sua storia, sanno che da quando era solo un adolescente non desiderava altro che assomigliare al biondo fidanzato di Barbie e, a giudicare dalla sua foto, che fa quasi impressione, ci è riuscito. Sul suo profilo Instagram condivideva il suo unico pensiero con i followers. Ho sempre sognato di essere un pupazzo umano, ma quell'ossessione gli ha provocato un'infezione tremenda, legata ad un uso eccessivo di hidrogel, sino a quando, cinque mesi fa, ha ricevuto una diagnosi agghiacciante, quella di leucemia linfoide acuta. Da lì a poco le sue condizioni sono drasticamente peggiorate sino al decesso, avvenuto nella clinica brasiliana di Uberlandia.